A proposito di una eventuale candidatura come sindaco di Roma, Ilaria Cucchi avrebbe smentito le nuove voci che la vorrebbero vicina proprio come, diciamo così, persone importanti del Campidoglio. In particolare avrebbe scritto le seguenti parole. Non ho nessuna intenzione di candidarmi a sindaco di Roma. Io faccio politica tutti i giorni, ma in mezzo alla gente. La sorella di Stefano Cucchi, insomma, su Facebook, ha fatto sapere a tutti quelli che la vedono e ascoltano che non ha intenzione di diventare un eventuale sindaco di Roma. Si tratta sicuramente di una coincidenza temporale con le simpatiche esternazioni dell'ex ministro dell'interno, così avrebbe scritto Ilaria. Prima gli insulti e le minacce, ora le fake news. Non ho alcuna intenzione di candidarmi a sindaco di Roma. Non invidio certo la posizione di raggi, della raggi, e mai mi sognerei anche solo di immaginare di prendere il suo posto. La politica la faccio tutti i giorni in mezzo alla gente, non con i soldi dei cittadini. Bene, insomma, una presa di posizione importante da parte di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che comunque ha fatto sapere che non vuole diventare un eventuale sindaco di Roma. Grazie, iscrivetevi al prossimo video da Narratore Italiano. Grazie, iscrivetevi al prossimo video.